Il ragazzo è seduto al tavolo. Il ragazzo è sotto il tavolo. I bambini sono sul tavolo. I bambini stanno saltando alla corda. Chi sta correndo? Gli uomini stanno correndo. Chi è seduto? Il bambino è seduto. Chi sta correndo? Le bambine stanno correndo. Chi sta correndo? Le bambine stanno correndo. Chi sta saltando? I bambini stanno saltando. Quanti bambini stanno saltando? Tre bambini stanno saltando. Quanti bambini stanno saltando? Tre bambini stanno saltando. Quanti bambini stanno in piedi? Tre bambini stanno in piedi. Quanti bambini stanno in piedi? Tre bambini stanno in piedi. Quanti bambini stanno in piedi? Tre bambini stanno in piedi. Quanti bambini stanno saltando? Quattro bambini stanno saltando. Quanti bambini stanno saltando? Quattro bambini stanno saltando. Quanti bambini stanno saltando? Quattro bambini stanno saltando. Quanti bambini sono sul tavolo? Una bambina. Quanti bambini sono sul tavolo? Una bambina. Quanti bambini sono sul tavolo? Una bambina. Quante bambine portano camice bianche? Una. Quanti bambini sono seduti? Uno. Quanti bambini sono seduti? Due. Quanti bambini sono seduti? Due. Quanti bambini sono seduti? Due. La bambina è sul tavolo. Lei sta saltando alla corda. La bambina è sul tavolo. Lei sta saltando alla corda. La bambina è sul tavolo. Lei sta saltando alla corda. Tre bambini stanno giocando. Loro stanno giocando a saltare alla corda. Tre bambini stanno giocando. Loro stanno giocando a saltare alla corda. Tre bambini stanno giocando. Loro stanno giocando a saltare alla corda. I bambini sono sul tavolo. Loro non stanno giocando a saltare alla corda. I bambini sono sul tavolo. Loro non stanno giocando a saltare alla corda. Il bambino sta correndo. Lui non sta saltando alla corda. Il bambino sta correndo. Lui non sta saltando alla corda.